Cazzo vuoi morti? Niente, ti rompo un po' coglioni, un po' tanto, come stai? Come cazzo vuoi che sto? Un po' nella merda come tutti quanti noi. Ma che cazzo ne vuoi capire tu? Che cazzo ne voglio capire io? Scusa, io sono la navigatrice della merda. L'ho fatto per professione la tossica, quindi un pochino forse. Tu nemmeno immagini quante volte ho visto queste situazioni nella vita mia, tante. Infatti ho perso anche il conto. E questa è la vita di una tossica, Martì. Oggi sei dentro, domani sei fuori. Oggi sei viva, domani sei morta. Hai una vita di merda, lo so. Però la scelta è nostra. Giusto? L'ha fatta apposta? No. Perché pensi che l'abbia fatta apposta, Martì? Lui si faceva. E tu non te ne sei accorta. Ogni tanto quando uscivamo, usciva la roba. Tanta. Infatti per questo ti portava. Perché sapeva che tu non potevi capire quello che stava succedendo. Quindi, come cazzo stai? Che cosa devo fare? Devi capire quello che vuoi fare della tua vita. Dai. Ci vediamo dopo.